Quello che noi chiamiamo cancel culture è, spesso e volentieri, semplicemente il gesto di qualcuno che si permette di criticare qualcun altro. Oggi la metafora appunto per cui se io ti critico ti ho ucciso, se io ti critico ti cancello, viene presa eccessivamente alla lettera. Quello che rischiamo di cancellare, giustamente riconoscendo gli eccessi e i dogmatismi, i settalismi, ma quello che rischiamo di cancellare è il diritto di critica e questo a me sembra la tendenza prevalente in questo momento negli Stati Uniti. Io sono Giuseppe La Terza e questo è Radar, un podcast degli editori La Terza. Radar è una serie di conversazioni settimanali sulle questioni essenziali del nostro tempo, ogni volta in compagnia di un esperto per cercare di andare in profondità a rimettere ordine e orientarsi. Da qualche tempo anche in Italia si parla di cancel culture, un fenomeno che da molti anni caratterizza la scena culturale americana. Sulla definizione di questa espressione c'è molto dibattito, come vedremo tra breve, ma possiamo dire che comunemente per cancel culture si intende l'idea che vadano cancellati dal discorso pubblico i personaggi che si esprimono in maniera offensiva per la sensibilità di minoranze di solito o comunque di gruppi che hanno minore accesso al discorso pubblico, o lo hanno avuto in passato. Ecco, oggi ci concentreremo su un aspetto particolare, ma molto importante, cioè la cancel culture relativa al passato, per l'appunto alle opere del passato, che sono monumenti, per esempio, ma anche film e anche libri, che secondo alcuni andrebbero cancellati o comunque ridimensionati di importanza perché portatori di messaggi violenti, alcune volte razzisti e comunque discriminatori. Facciamo un esempio, tanto per capirci. A Bristol, il 7 giugno 2020, è stata buttata giù una statua eretta molto tempo prima, nel 1865, ed era una statua ad Edward Colston, un mercante vissuto nel 600 che aveva fatto molte azioni filantropiche, ed è per questo che avevano fatto la statua ovviamente, ma si era anche arricchito col commercio di schiavi. Ed è per questo che è stata abbattuta. Pochi giorni prima dell'abbattimento della statua, c'era stato l'episodio tragico dell'uccisione di George Floyd da parte di un poliziotto americano, che aveva originato il movimento Black Lives Matter. E quindi la statua Colston, in quanto mercante razzista, è stata abbattuta. Altre statue erano state rimosse, ma su un altro settore, nel giugno del 2020, la HBO rimuove dal suo catalogo, anche se poi lo ripristina, addirittura un film famosissimo come Via col vento, giudicandolo razzista. E addirittura in diverse università americane sono state censurate, o quantomeno si è richiesto di censurare dei testi letterari antichi, anche classici, le metamorfosi di Ovidio, l'Odissea, giudicati anche questi, per certi versi, discriminatori o violenti. Ecco, al di là di alcuni aspetti, forse anche un po' eccessivi, comunque parossistici, della cancel culture, si pone una questione molto interessante, che è quella del rapporto nostro con la memoria collettiva, col passato, in cui si ripropongono dal passato dei conflitti più o meno attuali. Abbiamo pensato di affrontarlo con uno storico che se ne è occupato molto, in maniera molto articolata, anche con delle tesi molto chiare, che è Alessandro Portelli. Alessandro Portelli è uno dei maggiori storici della cultura americana, si è occupato molto di letteratura, ma anche di musica. Per esempio ha pubblicato con l'edizione del Donzelli due libri dedicati a Bruce Springsteen e a Bob Dylan. Con noi, con la terza, ha fatto un podcast che poi è diventato uno spettacolo intitolato Mystery Train, che è dedicato al mito del treno nella cultura americana. Alle questioni in cui parleremo oggi con lui, ha dedicato una sezione del suo libro Il ginocchio sul collo, l'America, il razzismo e la violenza tra presente, storia e immaginari, in cui approfondisce proprio questi aspetti. Buongiorno Alessandro. Buongiorno, buongiorno e grazie di questo incontro. Grazie a te. Partiamo con una prima domanda. Alcuni hanno detto e hanno sostenuto che non è mai giustificato l'abbattimento di statue che magari sono state erette appunto cent'anni prima, anche se durante regimi politici lontani. Perché, alcuni sostengono, sono una parte ormai dello scenario urbano, abituale. Ecco, tu invece come la vedi? Ma guarda, a me vengono in mente tre episodi. Non so se è presente la prima pagina della Certosa di Parma di Stendhal. Nella prima pagina della Certosa di Parma, Stendhal scrive I milanesi erano rimasti immersi nella notte profonda, dato il perdurare del geloso dispotismo di Carlo V e di Filippo II. Rovesciarono le loro statue e d'un tratto si trovarono inondati di luce. Il secondo episodio che mi viene in mente, cito da Internazionale, l'8 dicembre del 2013, una folla urlante si raduna in un viale che porta al centro di Kiev, in Ucraina. L'obiettivo della manifestazione è abbattere dal suo piedistallo una statua di marmo di Lenin, alta circa tre metri e mezzo. Appena la statua cade, i giovani ucraini, avvolti in bandiere e striscioni gialli e azzurri, cominciano a distruggerla a colpi di martello, mentre un nostalgico comunista cerca di proteggere con il suo corpo quello che rimane dell'icona di Lenin. E infine dal National Geographic del 1 luglio 2020. Il 9 luglio 1776, mentre i cittadini di New York erano radunati per ascoltare il testo della dichiarazione di indipendenza appena giunto da Filadelfia, una folla tirò giù e fece a pezzi la solenne statua equestre di Giorgio III, re d'Inghilterra. Quasi tutto il piombo recuperato fu usato per fare proiettili dell'esercito coloniale rivolta. Allora, questi episodi non fanno parte di una presunta furia iconoclastica del politically correct contemporaneo. Fanno parte di una pluriseculare tradizione storica in cui tutti e tre questi momenti, l'abbattimento di Carlo V, l'abbattimento di Lenin, l'abbattimento di Giorgio III, sono raccontati come momenti di liberazione. Cioè non sono cancellazione della storia, sono essi stessi storia. Cioè è un grande fatto storico la caduta del comunismo e tra l'altro nessuno ha mai parlato di cancel culture per la, secondo me, giustificatissima cancellazione delle statue di Marx e Lenin dalle città dell'Europa dell'Est. Lo dico da marxista più o meno immaginario. Hanno fatto bene. Quindi mentre noi vediamo come momenti di liberazione l'abbattimento delle statue dei nostri tiranni, non riusciamo a vedere lo stesso quando vengono abbattute le statue dei tiranni di qualcun altro, la statue di un mercante di schiavi, di un generale schiavista. Io credo perché negli episodi che ho citato vediamo l'irrompere nella storia dei nostri antenati, i nostri fratelli, cioè maschi, bianchi, occidentali, liberal-democratici, più o meno. Ma quando quelli che rivendicano la liberazione dello spazio pubblico, del discorso pubblico, sono soggetti che finora erano tenuti in condizioni di subalternità e che per il solo fatto di emergere irrompono in uno spazio che sembrava solo nostro, allora noi sentiamo una minaccia. Noi siamo tutti sinceramente antirazzisti, antimaschilisti, però alla fine sentiamo che la storia dell'antirazzismo e della liberazione la dobbiamo raccontare noi, non loro. Per esempio la statua di Lincoln con lo schiavo in catene ai piedi del suo liberatore, la statua di Roosevelt recentemente rimossa con lui a cavallo e il nero seminudo e l'indiano con le penne a suo seguito, perché siamo noi che liberiamo loro. Quando quello inginocchiato si alza e pretende di essere lui a raccontare, magari si porta dietro, come diceva Ernesto De Martino, tutte le scorie di secoli di oppressione, beh allora diciamo che cancella la storia, la sta facendo la storia. E infatti l'altro elemento, le statue non sono la storia, le statue non sono la memoria, le statue sono una narrazione storica dettata da chi ha il potere di erigerle. Abbattendo quelle statue non è che sia stata cancellata la memoria storica di Carlo V, di Lenin o di Giorgio III. Carlo V sappiamo tutti chi è, sta pure nei manuali delle scuole medie. Lenin, tutte le biblioteche se uno lo vuole leggere, Giorgio III sappiamo benissimo chi è. Cioè non è stata cancellata la storia. Può darsi che dopo aver buttato giù quelle statue i cittadini di Milano, di Kiev e di New York avessero un'idea un po' diversa, meno manipolata della loro storia. E vorrei aggiungere che noi confondiamo molto spesso la irruzione dal basso di nuovi soggetti nella storia e la censura del potere dall'alto. Non sono la stessa cosa. In questo momento, e noi tacciamo e non ne parliamo, a raffica vengono emessi negli Stati Uniti provvedimenti in cui per legge si impone come deve essere raccontata la storia. In Florida, per esempio, il governatore DeSantis ha varato una legge in cui non si può raccontare la storia della schiavitù in maniera da generare sensi di colpa nei bambini bianchi. La Florida è lo stesso stato, a proposito di cancellazioni, in cui un ragazzo nero, Trevor Martin, è stato ammazzato perché stava nel quartiere sbagliato dopo il tramonto e l'assassino assolto. Ecco, c'è una relazione fra il divieto di parlare della storia della schiavitù da parte del potere e il rischio fisico che corrono quelli che fuori da questa terra del potere stanno. Lo stesso, a me pare, la questione delle chiusure dei dipartimenti. A parte il fatto che in Italia, ma in tutto il mondo, stanno tagliando a tappeto da generazioni il finanziamento e i fondi e il personale delle discipline classiche, delle discipline umanistiche, puntando solo su, peraltro, necessarissime discipline scientifiche. Ma uno degli scandali che sono emersi era quando la Howard University, l'università storicamente nera, ha chiuso il dipartimento di studi classici, peraltro distribuendo gli insegnanti in altri dipartimenti, dicendo ecco l'università di Kamala Harris cancella Aristotele. Non è quello il punto. Il punto è che il taglio di finanziamenti a tutte le discipline scientifiche e storiche, dettato non dal politically correct di sinistra, ma dal potere statuale e finanziario, costringe a tappeto alla chiusura dei dipartimenti degli studi filosofici. Chiudono una quantità di facoltà di filosofia negli Stati Uniti. Ecco, tutto questo. Noi confondiamo alcuni gesti. Una giornalista che si è permessa di criticare l'autrice di Harry Potter e ci dimentichiamo per esempio che i libri di Harry Potter sono sistematicamente dati alle fiamme, al rogo, nelle università cattoliche negli Stati Uniti e anglicane negli Stati Uniti. Bruciano i libri e noi siamo zitti, però se una giornalista si permette di dire che la Rowling ha detto una stupidaggine, cancel culture. Ecco, io credo che noi non possiamo ignorare gli accessi del politically correct, eccetera, ma a forza di vedere la pagliuzza nell'occhio nostro accettiamo tranquillamente la trave nell'occhio altrui che poi ce la picchiano sulla schiena. Ecco, mi sembra molto chiaro quello che tu ci hai detto. Mi vengono in mente due questioni. La prima è che in fondo forse il tema è che qualunque voce, anche la più sgradevole, si pensa insomma non debba essere zittita, anche perfino una voce razzista. Magari bisogna contrastarla, ma dire stai zitto in una società pluralista non sembra una cosa buona, sembra un atto comunque violento. E la seconda questione è se c'è una differenza tra la rimozione di una statua, come è successo anche negli episodi che ho citato prima, da parte addirittura di un governatore di uno Stato che è stato eletto e quindi esprime una maggioranza dei cittadini, e invece da parte di una minoranza che in quel momento, come dire, si prende, si arroga il diritto di buttare giù una statua contro magari l'opinione della maggioranza. Ecco, tu che ne pensi di questo? Ma direi questo, in primo luogo il governatore della Virginia ha fatto rimuovere quella statua per evitare che venisse abbattuta e quindi è stato un modo di salvarla, tant'è vero che quella statua non è stata distrutta, ma è tuttora visibile da un'altra parte. Lo stesso avviene per la statua che lo Stato del Tennessee ha elevato subito dopo l'assassinio a Memphis di Martin Luther King. Il governo del Tennessee ha elevato una statua equestre al fondatore del Ku Klux Klan. Questo non è memoria, questo è politica e ci dice da che parte stiamo. Questa statua finalmente è stata rimossa e però non distrutta. Quindi, voglio dire, a me sembra che ci sia semplicemente il fatto che qualche volta le istituzioni, per evitare che le persone agiscano di loro iniziativa, preventivamente spostano. Vorrei aggiungere che quella statua di Liberty Lee, la richiesta di rimuoverla, è stata avanzata per la prima volta nel 1893, cioè l'anno stesso in cui è stata elevata. E non ha niente a che vedere con la memoria, perché la guerra civile era finita da trent'anni quando fanno i monumenti a Liberty Lee. I monumenti agli eroi del razzismo del sud sono stati tutti elevati, non durante la guerra civile, ma in momenti successivi in cui bisognava ribadire il suprematismo bianco. Negli anni venti, che sono gli anni di gloria del Ku Klux Klan, e tra gli anni 50 e 90, che sono gli anni in cui il sud resiste al movimento per i diritti civili, che è un movimento, se vogliamo, esattamente il contrario della cancel culture. Sul fatto che anche i razzisti hanno diritto di parola, certo. E infatti in tutto il sud continuano a parlare tranquillamente. il presidente degli Stati Uniti precedente, Trump, è stato eletto tranquillamente su una piattaforma dichiaratamente, apertamente razzista. Quindi io non mi preoccupo tantissimo per il diritto di parola dei razzisti, che continua a esistere. Io mi preoccupo per il corpo fisico di quelli che i razzisti continuano ad ammazzare. E questo è una delle conseguenze di una modalità di narrare la storia. Quando, continuo a tornare sull'esempio della Rowling, quando alcune giornaliste femministe si sono permesse di dire che la Rowling aveva detto delle stupidaggini, non è che la Rowling è stata cancellata. Ha continuato a parlare, ha fatto centomila interviste, non si è parlato d'altro che di lei. Il problema è che sono state cancellate loro che l'avevano criticata. Quindi, se da una parte i razzisti hanno diritto a parlare, primo, non sono obbligato io a farli parlare a casa mia. Secondo, avrò anche io il diritto di dire che fanno schifo. Quindi, questo a me sembra assolutamente importante. Quello che noi chiamiamo cancel culture è, spesso e volentieri, semplicemente il gesto di qualcuno che si permette di criticare qualcun altro. Oggi la metafora, appunto, per cui se io ti critico ti ho ucciso, se io ti critico ti cancello, viene presa eccessivamente alla lettera. Quello che rischiamo di cancellare, giustamente riconoscendo gli eccessi e i dogmatismi e i settalismi, ma quello che rischiamo di cancellare è il diritto di critica. E questo a me sembra la tendenza prevalente in questo momento negli Stati Uniti. La tendenza per cui in Virginia si esclude dalle scuole persino le opere di Toni Morrison, perché giustamente non raccontano la schiavitù come la racconta la statua di Robert E. Lee. E non dimentichiamoci che se c'è una censura in Italia è stata la censura dei libri accusati di promuovere la ideologia gender dalle biblioteche di una serie di comuni italiani, anche importanti, amministrati dalla destra. Questo mi sembra che sia stato un episodio importante in cui le istituzioni, il potere, decidono che cosa possiamo leggere e che cosa no. Sì, devo dire peraltro su quello che hai detto a proposito del diritto di parola sono totalmente d'accordo. Io credo che la terza non pubblicherebbe un libro di un razzista, dopodiché ci sono dei limiti che la legge pone. Per esempio due o tre anni fa al Salone nel libro ci fu una grande discussione perché c'era un editore che aveva chiesto uno stand e non gliel'hanno dato, un editore che aveva nel suo catalogo dei libri che faceva un'apologia diciamo del fascismo, comunque esprimiva un apprezzamento. Lì c'era una norma del Salone che prevedeva la possibilità, questa possibilità, e però ci fu una grande discussione. Ora, a proposito di questo, nel tuo libro, Il ginocchio sul collo, scrivi a un certo punto che ogni volta che vai allo Stadio Olimpico, ogni volta che tu vai allo Stadio Olimpico e rimpiangi di non avere con te una carica di dinamite da mettere sotto l'obelisco di Mussolini, Mussolini-Dux. Ce lo confermi? Ma è chiaramente una metafora, però se ce l'avessi non lo so. Però il punto qual è? Ci lamentiamo sempre, sacrosantamente, del razzismo nelle curve dello stadio. Bene, se uno va allo Stadio Olimpico, non passa solo sotto le forche caudine del monumento a Mussolini, ma si fa un intero viale, fiancheggiato da stelle marmore che esaltano le glorie del regime fascista, peraltro mentendo. Quindi intanto è una narrazione storica non solo propagandistica, ma anche falsa. Camminando su mosaici su cui c'è scritto, a parte Dux, 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 molti nemici molto onore. Ecco, questo molti nemici molto onore è uno degli slogan fatti propri dalle curve estremiste dello stadio. Tutti siamo convinti che gli arbitri ce l'hanno con noi. Cioè, devo dire che per fortuna, almeno me lo metto sotto i piedi queste scritte quando vado allo stadio. Cioè, noi non ci possiamo lamentare se il fascismo non è più un fatto del passato, ma è una inquietante presenza contemporanea. Anche perché a questa gente una lezione di fascismo gliela facciamo tutte le settimane. Dopodiché ci lamentiamo se diventano fascisti. Ecco, io in questo ho un serio problema. Il foro italico è peraltro un'opera d'arte importante, non va toccata, eccetera, eccetera. Però mi ricordo che almeno Gianni Rodari suggeriva, beh, visto che l'altro lato di quelle stele è vuoto, scriviamoci almeno come sono andate davvero le cose. Che già sarebbe un pochino di compensazione, anche se istituirebbe una specie di par condicio fra la narrazione fascista e quella democratica. Ecco, io credo che in qualche misura un'operazione che permettesse, nel caso del foro italico, di mantenerlo, ma di leggerlo in maniera critica, in maniera che non appaia come un messaggio destinato a chi lo frequenta in questo momento, forse dovremmo trovarla. In questo caso, senza bisogno di distruggerlo, anche se poi tanto intangibile non è, visto quante volte è stato rifatto quello stadio, coperto, scoperto, allargato. Quindi tanto intangibile non è. Però, in qualche misura, sarebbe utile che aiutassimo i cittadini italiani che frequentano quel luogo a non essere sottoposti ogni domenica a una falsa narrazione della storia. Ecco, ma viene da porsi la domanda quanta distanza deve passare perché una testimonianza non sia più un'esaltazione, un messaggio attivo e appunto entri dentro una parte come dire di più distaccato rapporto con la storia. Come valutiamo l'attualità di un messaggio? Sì, possiamo dire che Giulio Cesare nel suo atteggiamento dei confronti dei popoli del Nord non è razzista e quindi non fa danni la statua di Giulio Cesare. Come ci poniamo nei confronti del passato più o meno remoto? Ma guarda, io credo intanto se noi pensassimo di spezzare le regne alla Francia forse i monumenti a Giulio Cesare potrebbero far parte di quel tipo di neonarrazione. Il problema è che le cose non scompaiono mai. Cioè il razzismo non è un residuo del passato che a mano a mano va scomparendo ma è una tentazione del presente che riemerge di volta in volta. Quindi noi possiamo pure pensare che certe narrazioni siano ormai superate e ritornano, tendono a ritornare. Ovviamente dire buttiamo giù il Colosseo perché lì ci hanno ammazzati i cristiani mi pare una riduzione d'assurdum anche perché non c'è nessuno che lo rivendica. E questo forse è uno dei criteri. Cioè se qualcuno oggi chiede di buttare giù la statua di un mascalzone che si è arricchito vendendo esseri umani e poi vuole andare in paradiso regalando i frammenti di questa ricchezza se qualcuno pensa di buttarlo giù è anche perché in questo momento alcune delle cose che rappresenta sono attuali. Se nessuno pensa di buttare giù la colonna traiana beh forse è perché non offende più. Io forse mi affiderei più che a un criterio astratto diciamo a un dato di discussione politica. Poi non sempre quelli che dicono di buttare giù una cosa ci hanno ragione ma molto di rado quelli che dicono che ce la dobbiamo tenere e ci hanno ragione anche loro. Sui temi di cui stiamo parlando abbiamo sentito Costanza Rizzacasa d'Orsogna una giornalista del Corriere della Sera che proprio in questi giorni esce con noi con la terza con un libro intitolato Scorrettissimi la cancel culture nella cultura americana. Sentiamo cosa ci ha detto. Nel mio libro che contiene analisi e interviste esclusive come ad esempio con l'esperto di primo emendamento cioè il Freedom Speech sulla libertà di parola Greg Lukianoff che è autore col sociologo Jonathan Haidt di questo saggio seminale The Codling of the American Mind ma poi anche con Blake Bailey che è l'autore cancellato l'anno scorso della biografia di Philip Roth in quello che è stato lo scandalo editoriale di maggior risonanza degli ultimi decenni. La biografia che è in uscita fra qualche mese e anche in Italia peraltro nel mio libro dicevo porto i lettori al cuore del dibattito sulla cancel culture che infuria nella società non solo americana ormai parole come appropriazione culturale supremazia bianca mascolinità tossica walkness usate spesso spessissimo ormai a sproposito popolano le conversazioni quotidiane in particolare alla parola walk una parola diventata il suo contrario nel tempo proprio come un po' è successo alle parole cancel culture e politically correct dedico un intero capitolo del mio libro sullo sfondo una polarizzazione politica del pensiero che negli Stati Uniti per esperti ha raggiunto un punto di non ritorno pensiamo solo a quanto si evochi sempre più frequentemente in America la guerra civile anche da parte ormai di grandissimi politologi come ad esempio Barbara Walter che ha un passato alla CIA un'evocazione fino a due anni fa ritenuta resibile quella di una nuova guerra civile negli Stati Uniti e poi dall'altro lato il modello parentale ed educativo del safetism cioè la sicurezza emotiva come valore sacro di cui scrivono appunto Lukianoff e Hyde e ovviamente la censura non è solo di sinistra la retorica di sinistra anzi che da anni infuria dentro e fuori campus eliminando tutto ciò che può apparire politicamente scorretto alimenta il bigottismo di destra che ha anche una lunghissima una sua lunghissima storia in un circolo vizioso in cui finiscono per perdere tutti le guerre culturali dilaniano la scuola dell'obbligo poi con il numero dei libri banditi o contestati che sfonda ogni mese nuovi record ora è chiaro che se mettere i libri al bando non è nulla di nuovo nelle scuole americane diverse poi oggi sono le tattiche è fortissima soprattutto la politicizzazione e allora guardando agli autori Mark Twain Harper Lee Patricia Highsmith J.D. Salinger già abbiamo già parlato di Philip Roth la cancel culture vorrebbe cancellarli tutti e poi ci sono anche Ernest Hemingway o Norman Mailer in verità cancellati da un pezzo notevole per esempio il caso Hemingway l'anno scorso era uscito anche in Italia un importante documentario del grande filmmaker Karen Barnes che concepito prima dell'avvento del Me Too aveva poi dovuto cambiare sterzare completamente cambiare completamente direzione in seguito all'avvento del Me Too e finito questo documentario per diventare un'excusazio della misoginia di Hemingway sulla base della presunta malattia mentale ed è un po' risibile anche se il documentario poi chiaramente è fatto bene si tratta sempre di Ken Burns però è come se fosse necessario ricorrere alla malattia mentale di Hemingway per giustificarne l'interesse e la lettura ci stiamo parlando di un autore la cui rivoluzione stilistica ha stravolto la letteratura americana e continua a influenzare e continuerà a farlo generazioni di scrittori contemporaneamente a destra poi si spinge per cancellare Toni Morrison Margaret Atwood e tantissimi altri autori afroamericani autrici femministe autori LGBT più quanto era misogino Philip Roth quanto era razzista Flannery Conner quanto era antisemita Patricia Highsmith ah sì certo moltissimo ma il punto è dovrebbe importarci dobbiamo giudicare i capolavori della letteratura del passato alla luce delle sensibilità odierne dovremmo forse smettere di leggere per esempio un autore come William Faulkner per non essere riuscito a fare i conti con il razzismo sistemico se cento anni dopo l'America stessa non riesce ancora a farli ed altronde poi certo è anche vero assolutamente possiamo chiedere ai diritti di aspettare in nome di una presunta sacralità della letteratura insomma ecco come siamo arrivati qui che sta succedendo nel mio saggio racconto questo terremoto culturale ne ricostruisco la genesi e le ragioni all'interno del contesto storico politico americano in cui è nato e tutto questo perché per citare l'attivista afroamericano Eldridge Cleaver che era uno dei leader dei Black Panthers ecco come diceva lui o sei parte della soluzione o sarai parte del problema e adesso torniamo alla nostra conversazione con Alessandro Portelli dunque noi abbiamo fatto molti esempi fin qui soprattutto americani ma ci sono stati anche fenomeni in Europa recentemente si è discusso sul fatto che con la guerra si rimuovevano i letterati russi per esempio Dostoevsky dai programmi culturali ha senso o non ha senso e anche qui io lo te lo chiedo in senso ampio in realtà non è soltanto in questo caso una rimozione dei testi per esempio si è scelto di non invitare in alcuni casi alcuni artisti ballerini o russi oppure sportivi russi perché si voleva dare un segnale diciamo forte della nostra adesione della nostra alleanza alle posizioni ucraine ti convince questo tipo di atteggiamento ti sembra utile no direi proprio di no tanto vorrei ricordare che io ho insegnato letteratura americana in tutto il periodo in cui gli Stati Uniti bombardavano e massacravano in Iraq e in Afghanistan e nessuno mi è venuto a dire cancelliamo Mark Twain vietiamo l'insegnamento di Henry James o altro questo perché in qualche modo c'eravamo anche noi tra quelli che bombardavano oggi questo accanimento nei confronti accanimento peraltro a me pare occasionale e minoritario nei confronti di espressioni della cultura russa mi sembra diverso da quello che è successo appunto a Bristol o a Charleston perché non nasce dal basso ma è un eccesso di zelo nell'aderire a quella che è la linea ufficiale del potere e del governo cioè buttare giù Robert E. Lee significa andare contro la narrazione ufficiale dello Stato della Virginia vietare un seminario su Dostoevsky è un eccesso di zelo a favore di una posizione che è la posizione ufficiale del nostro governo e della maggioranza delle forze politiche che peraltro sacrosantamente sostiene la resistenza della nazione ucraina all'invasione russa ecco questo a me sembra che sia una differenza cioè mentre gli episodi di cui parlavamo prima sono essenzialmente episodi di dissenso nei confronti del potere questi sono momenti di eccessivo zelo di consenso questa è una differenza che ci ricorda anche appunto questo che la riscrittura della storia della letteratura dei canoni non avviene solo per colpa dell'irruzione dal basso di soggetti non autorizzati ma avviene nella maggior parte dei casi con le scelte e gli orientamenti che provengono dall'alto dalle istituzioni e dal potere tra l'altro in queste settimane sentendo le notizie sull'esclusione di artisti sportivi russi mi viene in mente quanto scriveva qualche anno fa Amartya Sen il saggio si chiamava Identità e violenza e si diceva ciascuno di noi ha tante identità identità delle sue convinzioni politiche un'identità anche religiosa o quella professionale i suoi interessi i suoi hobby ecco se noi rinunciamo a queste varie identità in nome di una che prevale su tutti che sia quella nazionale o quella religiosa questo genere è violenza mentre invece ognuna di queste identità è un'occasione per creare un punto un rapporto e quindi voglio dire al di là del fatto che quell'artista è russo è anche un artista è un musicista ha rapporti potenziali con musicisti di altri paesi magari anche ucraini e quindi rescidere questo legame forse non è utile non è bene e poi c'è una questione particolarmente importante e cioè come tutto questo si cala nel tema dell'insegnamento tu prima ricordavi il tuo insegnamento negli anni rispetto alla guerra in Iraq c'è un insegnamento anche a scuola come dovremmo comportarci dovremmo forse cambiare le informazioni o i giudizi contestualizzare le cose che sono scritte nei manuali ripensarle alla luce del dibattito attuale cioè come si dovrebbe comportare un insegnante che ha a che fare con dei ragazzi giovani su questo tema intanto una delle cose che forse è il caso di evitare è proprio la prescrittività devi fare questo devi fare quest'altro penso che l'unica cosa che un insegnante può seriamente fare è usare al massimo la sua buona fede e cercare di seguire i paradigmi le procedure previste dalla ricerca storiografica vorrei aggiungere che questo cambia continuamente e non è sempre necessariamente la politica di corretto e sinistra nella regione Lazio sono stati dati alle fiamme non più di tanti anni fa dei libri colpevoli di essere antifascisti durante la presidenza della regione storace e se voi ci fate caso i manuali di storia sono radicalmente cambiati e molto giustamente si è introdotto per esempio il tema delle foibe che prima o non c'era o c'era molto poco e questo è un cambiamento nei manuali che è dovuto sia a pressioni politiche sia anche a un riconoscimento di un dato storico vero quello che nei manuali completamente manca per esempio è forse il fatto che oggi in Italia ci sia una presenza anche di cittadini italiani con un'altra storia beh manca completamente la storia del colonialismo italiano il 21 di maggio si è celebrato la ricorrenza della strage commessa dagli italiani e dico italiani non dico fascisti commessa dagli italiani a Debrali-Banos più di mille monaci studenti ammazzati nel quadro di un massacro generalizzato in tutta l'Etiopia altro che fosse Ardeadine non c'è una riga nei nostri manuali qui non è questione di politicamente corretto qui chi è che cancella che cosa e questo a me pare molto importante quello che stiamo cancellando è la storia dei nostri crimini di guerra forse i nostri manuali dovrebbero aiutarci perché il problema è anche quello che cosa pensiamo che sia la memoria e per questo c'è questo malinteso che i monumenti sono memoria perché fanno parte di un'idea di memoria che racconta o quanto siamo gloriosi o quanto abbiamo sofferto io credo che la memoria ci deve pure raccontare queste cose va bene raccontarcele ma ci deve pure raccontare le schifezze che abbiamo fatto cioè la memoria non serve solo a farci sentire bene la memoria serve anche a disturbarci e se noi invece continuiamo a coltivare un'idea di memoria che è solo appunto le glorie patrie e i soprusi che ci hanno fatto i cattivi questa è cancellazione questa è cancel culture ecco ma da questo punto di vista è molto interessante quello che scrivi anche nel tuo libro a un certo punto sulla risignificazione cioè racconti facendo alcuni esempi su quello che per esempio è successo a Bolzano dove c'è un grande freggio della casa del fascio con scritto credere obbedire combattere ma sotto c'è una frase sempre molto grande che hanno inserito dopo di Anna Arendt in cui si dice che nessuno ha il diritto di obbedire e questa frase è in tedesco in italiano in ladino si è scelto di non cancellare la scritta fascista ma di aggiungere un'altra frase ugualmente evidente quindi alla memoria a una memoria violenta razzista se ne contrappone un'altra può essere una soluzione quella appunto di dare un messaggio diverso completamente diverso portando i nostri valori i valori della nostra convivenza ma io penso che quando è possibile è la soluzione giusta quando è possibile non sempre è possibile e va fatto come hanno fatto a Bolzano in maniera tale che tu non puoi vedere quel fregio o non puoi vedere l'arco della vittoria che è il simbolo del colonialismo italiano sul Tirolo non puoi vederlo senza vedere anche la critica se noi ci limitassimo sotto al monumento a Mussolini a metterci dieci righe dicendo sì però questo è un mascazzone peraltro è quello che è stato fatto con le stelle di Travertino cioè alla fine delle stelle di Travertino siccome c'erano rimaste due vuote perché il regime si preparava a celebrare le altre glorie c'è stato scritto il 25 luglio caduta del regime e 2 giugno mi pare cioè ecco sono state aggiunte queste due cose devo dire che non bastano primo perché sono state giunte esattamente con la stessa grafica per cui sembra una continuazione della stessa narrazione perché nessuno ci spiega perché è caduto quel glorioso regime di cui abbiamo avuto la narrazione fino a un sasso prima quindi la risignificazione va fatta in maniera tale che non sia possibile non vederla questa è la intelligenza di quello che hanno fatto a Bolzano perché quel fregio che non è un'opera d'arte a me pare anche brutto però non lo puoi buttare giù perché è troppo grande e allora tu fai una scritta tale che anche chi passa casualmente non possa non leggerlo criticamente per cui metterci una toppa che ne so come avevano detto sotto la statua di Churchill mettere un cartello con scritto sì però ha fatto morire di fame 3 milioni di indiani nella seconda guerra mondiale e no non basta perché è qualcosa che uno deve andarselo a cercare per vederlo la resignificazione deve essere tale che non sia più possibile leggerlo se non criticamente su questo credo che ci siano fior di artisti di architetti di urbanisti che hanno delle idee e spero che vengano fuori sì d'altra parte tu stesso hai detto prima la memoria deve essere anche disturbante quindi in un certo senso se noi siamo disturbati da una memoria razzista violenta ci poniamo anche il tema non il problema perché se non ci fosse la statua di Mussolini tu sei convinto che non ci sarebbero comunque tifosi razzisti o residui fascisti nei partiti italiani cioè senza i monumenti non si produrrebbero forse comunque quei tratti che Umberto Eco ha definito di fascismo eterno ma in quanto eterno poi lo dicevo il razzismo rinasce sempre però diciamo che in qualche modo sarebbero un pochino meno legittimati dall'uso pubblico ufficiale dello spazio quindi quello che noi facciamo è legittimarli mentre io condivido credo questa idea che se noi conserviamo e rileggiamo criticamente questi strumenti ci ricordiamo beh ci ricordiamo che noi italiani siamo stati fascisti è forse il caso di stare attenti a non ridiventarlo in questo senso sì la memoria dei crimini commessi è molto importante per cui qui ci vuole veramente un livello di creatività artistica urbanistica architettonica di cui probabilmente poi nel nostro paese siamo anche capaci l'ultima cosa che ti vorrei chiedere stiamo parlando di atti forti di eliminazione di monumenti di cancellazione di opere letterarie però c'è qualcosa che tu scrivi anche nel libro e cioè che esiste una per così dire cancellazione per incuria tu fai l'esempio di due monumenti romani uno a Giacomo Matteotti e l'altro a Garibaldi che sono lasciati senza manutenzione nell'indifferenza generale questa cancellazione per incuria può essere forse ancora peggio? Ma c'è anche questo il punto è proprio che nel caso di Matteotti e Garibaldi per esempio beh non è presente in questo momento nel nostro discorso politico e sociale una forza culturale che dica quel monumento ci rappresenta cioè lasciamo perdere Garibaldi che pure vale la stessa cosa al suo modo ma l'incuria al monumento di Matteotti è l'indicazione molto precisa del fatto che l'antifascismo non è più il collante della nostra convivenza anche questa è una resignificazione una resignificazione che segnala che in quel monumento evidentemente le nostre istituzioni non si riconoscono più questo mi pare abbastanza preoccupante c'è questa geniale proposta di cancellazione per incuria da parte di questi urbanisti americani che dicono che quel parco nazionale sopra l'Atlanta in cui un'intera montagna è scolpita per dare l'immagine di quei traditori che hanno combattuto contro il governo americano per sostenere la schiavitù siccome è un parco naturale lasciamo semplicemente crescere l'erba e piano piano la natura se lo riprenderà è uno specchio di questa cancellazione per incuria del monumento di Matteotti che io trovo veramente molto grave aggiungerei che un'altra modalità di incuria è il fatto che due terzi delle statue che stanno in giro nelle piazze nessuno sa più chi rappresentano e nessuno se ne ricorda più in qualche modo non rappresentano memoria ma magari uno spartitraffico quindi possono anche essere sostituite o resignificate o tolte grazie credo che veramente ci hai fatto vedere come questo è uno dei compiti fondamentali di uno storico cioè riportare la memoria in un certo senso nell'attualità collegando la storia passata ma anche il presente perché la storia come tu scrivi è anche presente e va collegata poi con la vita di ogni giorno questa storia ci interroga ci ripropone continuamente delle questioni e credo che la morale del nostro discorso o almeno una delle possibili morali e che dobbiamo discuterne dobbiamo discuterne con serietà approfonditamente capire cosa siamo e di come questo nostro modo di essere si fa anche del rapporto col passato e cosa voglia dire lasciare i segni del passato nelle statue ma anche nei libri nei romanzi nei film questo ci probabilmente ci fa capire come quello che noi facciamo è sempre in una riflessione continua sul passato quindi ti ringrazio molto credo che sia stato molto utile questa nostra conversazione grazie e mi auguro di risentirti presto alle prossime grazie avete ascoltato Radar un podcast degli editori La Terza post produzione e musica a cura di Matteo Portelli 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 di Matteo giusto di Matteo Grazie a tutti